Ho conosciuto appunto Adriana, che è stata qui prima, e con lei hanno imparato altre tecniche di tintura naturale. Approssimamente noi stiamo 20 anni, lavorando in arte e salire. Più o meno sono 20 anni che lavorano con l'artigianato tessile. Lo chiesto il sposo Bonifazio è il tecnico telaio e altri compagni. Il suo marito Bonifazio, che parlerà dopo, presenta a lui il tessere, usa il telaio, insieme ad altri compagni di loro. Tambien facciamo lo che è il deserredato di hilo, il lavato di hilo e l'enrollato di hilo. Un altro dei lavori che fanno sono quello di lavare i fili, di scioglierli e poi di arrotolarli nel modo giusto per poterli lavorare. Allora, anche le vengo a parlare della vestimenta diaria del Tlantone Pécniche, che le persone di Clavio si dedicano a guardare la blucia di Clavio, che è la vestimenta diaria, che è il trage. Questa è la blucia, il segnale, l'alli anche lo lavoriamo, l'alli altri compagni si dedicano a guardare il segnale. L'alli usiamo qui per farci, per farci, per farci cose pesate. L'alli lavoriamo nel campo anche. E il rebozo anche lo facciamo perché l'alli in il popolo fa molto freddo, anche molto freddo, si usano per taparci. Il rebozo è più grande, questo è mediano, così ci si usano per fare il sole, per fare il bambino, per fare il bambino, e poi in il sole lo facciamo. E così lo usiamo per fare il sole, per fare il bambino. E per fare il bambino, così lo mettiamo e ci mettiamo a fare il bambino. Ci raccolterà appunto il significato di quello che ha addosso, che è poi quello che, come ci si veste quotidianamente, che sia la blusa ma anche la cintura che è rafforzata, quindi il ricamo che c'è su, questa cintura rafforzata serve per sostenere, soprattutto perché oltre all'artigianato, lavorano in campo, quindi il lavoro è pesante. Si usa molto lo scialle, che si usa sia quando fa freddo, perché è una regione dove può fare molto freddo, ma anche dove il sole è molto forte, quindi in questo caso per proteggersi la testa del sole, però anche quando si va a ballare, si mette così in testa per andare a ballare. Tambien usiamo questi baracchis, che si fanno nel pueblo, questi baracchis, anche quando camminiamo molto e aguantano. Questi sandali sono anche sandali, che vengono fatti nella comunità in cui vive, che sono molto resistenti, perché bisogna camminare molto e quindi questi resistono. Sì, e la falda originale è di manta, come la blusa bordata, e non la uso perché si insucia molto, e questa non si insucia tanto. non è la gonna originale, e invece si vede anche quella fatta con un telo ricamato, che però non sta usando perché si sporca troppo velocemente, mentre questa è meno delicata. Sì, quindi guardate che stanno allì, nelle blusse, per esempio, questo che sta allì, per noi questo è il sole, questo è il sole, e queste sono le montagne. in questo caso il sole con le montagne, perché viviamo dentro della montagna, che siamo nel cielo più alto, che è la sierra Norte di Oaxaca. Perché loro vivono in montagna, nella montagna più alta, che è il cielo Norte di Oaxaca, e qui nella montagna è molto presente. E questo è il maguey, qui sono magueys del pulque, e magueys del mezcal, perché questo lo usiamo molto allà, per la Sagrada Tierra e la Madre Naturalezza. Quella, il fiore e il maguey, che sarebbe l'agave americano, che c'è l'agave per fare il pulque, che è una bevanda alcolica, oppure il mezcal, un'altra bevanda alcolica, che sono sacra, perché rappresentano il salato della Madre Natura. e anche un ringraziamento alla Natura, che ci dà da mangiare, e della Natura che prendiamo tutto quello che ci serve per vivere. Questa è la vereda del cammino, questa è la vereda del cammino, perché hai molti cammini, per andare alla scuola, per andare a diverse parti. E questo è il rio, dove corre l'acqua, perché viviamo anche nella montagna, e passa nel cuore. Quelle linee sono uno il fiume, che scende dalla montagna dove vivono, e l'altra rappresentano tutte le varie strade, i cammini che fanno, camminando tutti i giorni, parecchio insomma. E variamo anche la figura, perché sono la maggior parte delle artesanze, cada uno ha la forma di vedere, la sua immaginazione, dipende di come vanno guardando le figure, ma lo che ha bisogno è il maghello, il sol, la montagna, che è la principale del cuore. Ecco, queste figure, il sole, la montagna, il fiume, sono sempre presenti. Poi dopo ogni ricamatrice, ha la sua immaginazione, il suo modo di vedere, quindi li può rappresentare, di volte a volte, in modo diverso. Trabajamo sempre con colori, rocchi e negri, perché questo è quello che, lo che, al sagrado cerro, e da lì, la energia, dove sta il Reconque, Reconque, si, arriviamo in agradecimento a lui, anche a lui, e il negro, perché ancora usiamo molto la legna, per cucinare. Si usa molto il rosso e il nero, il nero, che arriva dalla legna, che si usa soprattutto per cucinare, che è un altro importante. Il rosso arriva molto dalla montagna, nella montagna sacra, in quel più alto, vive Conkei, che è una figura spirituale. così è. e in la Quarta Mienia, conviviamo, con la musica, sempre ha sido con la musica, per ogni compromesso che abbiamo, il mezcal, il tepace, così è, fiesti patronali. Ecco, un elemento molto importante della loro vita è la musica, la musica è sempre presente, l'eocazione personale, qualsiasi cosa si faccia, la musica. Sì, molto grazie, credo che è tutto, non ho più parole, non mi ricordo, ci sono molte cose che raccontare.